Allora, praticamente i passi base sono questi, prima da un lato, poi dall'altro, cantate con me. Ok. Bolle mille, bolle blu, bolle vede intorno a me, bolle mille, bolle blu che volano. Questo è il passo base. Ok, facile. Io adesso mi metto lì in posizione perché voglio vedere voi tre. Ok, Paola dai il tempo, Paola dai il tempo, vai, presta. Si, se, se, oh. Na, 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 na. Na, 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 no, non ci siamo proprio stop, 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 perché io non capisco perché avete cantato questa canzone, quando sono passati un bel po' di anni, non lo capisco. Vabbè, allora facciamo così, io canto, ti pretendo. Mmh, tu canti. Posso? No, no, per favore, ti pretendo. Poi perché devi cantare per prima, scusa? Io canto, ballo e recito. Addirittura. Sì, vabbè. Nella trasmissione che comunque conduco io, vabbè, comunque decidete voi. Va bene. Ma quando andremo in onda? Prossimamente su Rete Oro noi siamo adesso Bollicine, a volte ritornano!